ciao allora oggi parliamo di contornocchi e per chi come me portatrice di borse occhiaie sappiamo che è molto importante vi parlo di un prodotto low cost ma che mi è piaciuto tanto è questo della HQ impacco contornocchi all'estratto di fior d'aliso mi raccomando parlo dell'impacco non della crema della maschera e impacco contornocchi al fior d'aliso che dice di essere per 15 dosi ma io vi dico subito che ne serve poco prodotto quindi dura davvero per molte più dosi e è un prodotto low cost perché io trovo a 2 euro e a prezzo pieno ma in offerta a 0,99 quindi perfetto allora questo prodotto diciamo che è un valido prodotto contornocchi idratante non fa miracoli per quanto riguarda borse e occhiaie ma comunque sia soprattutto in estate quando io non voglio troppi prodotti pesanti sulla pelle questo è molto fresco molto leggero si estende benissimo e assorbe immediatamente quindi lo trovo davvero perfetto se volete truccarvi dopo potete tranquillamente farlo oppure no comunque sia è assorbito e ha un'azione davvero idratante soprattutto nelle rughette quando state agli occhi si nota ecco perfetto questo lo protegge queste rughettine quindi davvero è idratante dice che ha con i principi attivi estratti di fior d'aliso camomilla arancia amaro e quercia la profumazione è molto delicata non va a irritare gli occhi non è persistente quindi davvero tranquille perché io lo sento molto quindi questo è davvero un valido prodotto ha questo packaging che va bene anche da portarsi dietro vi ho detto che lo uso in estate magari anche in paligia perché c'è pieno poi dopo c'è il tappino che va a chiudersi dice che come vi ho detto 15 dosi ma davvero basta poco prodotto da applicare bene picchiettando e dura davvero di più io in estate ad esempio con due confezioni ci ho fatto tutta l'estate applicandolo mattina e sera quindi è davvero fantastico e niente questo va sicuramente tra i miei contornocchi preferiti che a breve vi farò il video comunque sia fatemi sapere se voi l'avete provato e come vi siete trovate io spero come sempre vi sia stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perdere la prossima accensione beauty low cost alla prossima ciao 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 ciao